Oggi è 7 giugno 2019, nei giorni precedenti non ho registrato niente eh, si ricordo la registrazione che ho fatto al largo cosoleto eh sì, ma dopo non ho fatto altro, vabbè Recuperiamo Bene, di cosa voglio parlare? Ecco, ho visto un'immagine molto interessante su Google Vedete? Allora, a me non mi piace parlare di calcio conosco tanta gente che parla di calcio, che è fissata per calcio C'ho certe persone di mia conoscenza che quando sento parlare parlano sempre di calcio Però, c'è una cosa di cui voglio parlare Ecco qua, campionato mondiale di calcio femminile 2019 Prima giornata Ecco, perché voglio parlare di questo campionato di calcio? Io scommetto che le stesse persone fissate col calcio non seguono il campionato mondiale di calcio femminile Ehm, insomma, mi piacerebbe capire i motivi Tra l'altro, era un po' che sapevo di questo campionato di calcio perché un po' di tempo fa ne avevo sentito parlare Ehm, ricordavo che iniziava più o meno in questi giorni ma non ricordavo la data precisa Ah, ecco qua, secondo Wikipedia questo campionato dura dal 7 giugno al 7 luglio Si svolge in Francia Ehm... Ah Ehm, la squadra degli Stati Uniti d'America è campione in carica Ah, c'erano due stati candidati Francia è ancora del sud? Ah, alla fine ha vinto la Francia per ospitare il campionato Ehm... Ah, se ho capito bene Il campionato si svolgerà in 9 stadi diversi Interessante Ehm... Vabbè Mo' io non c'ho tante cose a dire Ehm... Anche perché Ehm... Seguo poco il calcio Ehm... Insomma... Non voglio... Parlare tanto di cose non conosco bene Ehm... Ehm... Niente... Ehm... Chiudo qua Ehm... Sì... C'ho ancora una cosa voglio dire Ehm... Ecco... Come ho detto prima Io... Vorrei capire i motivi per cui Si parla tanto Dei campionati di calcio maschile E si parla poco dei campionati di calcio femminile Ehm... Qualcuno può spiegarmi questa cosa? Ehm... Vabbè... Sì, ho fatto la domanda che volevo fa' Ehm... Mo' chiudo Grazie per l'attenzione